Al Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese l'80% dal personale è adedito questa mattina allo sciopero proclamato dalla CISAL. Le maestranze devono percepire 4 mensilità, 14esima del 2012, rimborso 7,30, adeguamenti contrattuali, più alte voci del salario. Il sindacato, retto a livello provinciale da Lucia Pagano, ha deciso di usare le maniere forti con l'organizzazione di uno sciopero che scuota l'apparente torpore dell'ente consortile. Stamani alle 7 l'avvio della mobilitazione è proseguita nelle ore successive con il picchettaggio del plesso che ospita gli uffici del Consorzio e alcuni dipendenti sono saliti perfino sul tetto per far sentire più forte la propria voce. Sto affrontando questa situazione insieme ai miei compagni proprio per portare insieme alla signora Lucia Pagano un apporto in più per poter vedere di risolvere questa situazione un pochino incresciosa che ci sta attanagliando da alcuni mesi. e credo che una dimostrazione del genere non è tanto per andare contro ad un'amministrazione ma quanto più per far capire la situazione reale qual è che attualmente ci sta coinvolgendo a tutti quanti. Sono 5 mesi che veramente stiamo facendo i salti mortali, qualcuno si è riempito di debiti noi per esempio qualcuno ha fatto il quinto dello stipendio e nemmeno quello hanno pagato per di più sono 5 mesi che non prendiamo lo stipendio e facendo il 25% come tutti i sanno ormai pensavamo che a meno prendevamo lo stipendio solo ghiacchiere sia la prefettura del presidente ha fatto fino a questo momento ci sono state solo ghiacchiere promesse luglio agosto vi paga, luglio agosto vi paga o ma stiamo a novembre e ancora ci devono dare niente. Da Lucia Pagano l'allarme sul fronte occupazionale l'agronocerino è una polveriera. L'agronocerino io mi chiedo perché non esplode e chi mantiene l'agronocerino dal non farlo esplodere perché c'è una situazione drammatica in tutti i posti di lavoro ormai la zona dell'agronocerino è diventata una zona ad alta densità di disoccupazione peggio di prima, forse siamo molto più in lago nei numeri di Napoli abbiamo più disoccupati noi di Napoli, più gente inoccupata, più gente licenziata c'è una situazione drammatica in quest'agrono e io non capisco perché le forze politiche le altre forze sociali, gli altri sindacati siano lì a dormire quando ormai la gente non ne può più.